Buonasera Londra! Ovviamente parlare di alimenti che ci uccidono ogni giorno è un'esagerazione. L'alimentazione va vista nel suo complesso sia dal punto di vista qualitativo ma anche da quello quantitativo. E poi c'è lo stile di vita, quindi è tutto a 360 gradi che determina se andiamo verso la salute o verso la malattia. Detto questo ci sono delle sostanze negli alimenti che sicuramente fanno male. È bene conoscerle e oggi scopriamo quali sono. Vediamole! Per conoscere quello che ci fa male è abbastanza semplice. Mediamente quasi tutto quello che serve per conservare gli alimenti, per aumentare la loro shelf life, per poter tenere in frigo alcuni cibi, noi che cosa dobbiamo fare? Abbassare la loro carica batteriologica e impedire che le reazioni enzimatiche continuino e vadano avanti. Ecco, è soprattutto il primo punto, quello che può far male. Abbassare il quantitativo di microbi che normalmente sono presenti negli alimenti. Questi microbi possono essere dannosi per il nostro organismo, quindi se vogliamo conservare gli alimenti siamo obbligati ad abbassarne il quantitativo, ma nel momento in cui mangiamo questi alimenti che hanno una conservazione più lunga, ecco che ci possono essere dei danni. Questi danni possono essere diretti al nostro organismo e poi vediamo perché, ma anche indiretti. Indiretti perché noi stessi viviamo in simbiosi con alcuni batteri, alcuni microbi. Questo ci permette di proteggerci da altri patogeni esterni, di scomporre alcune sostanze che normalmente non potremmo prendere, ma grazie al metabolismo di questi batteri possiamo assorbire trasformandoli. Insomma, stiamo parlando del nostro microbiota. Ecco, alcune tecniche di conservazione degli alimenti vanno a danneggiare il nostro microbiota e indirettamente quindi stanno danneggiando anche noi. Ma adesso, bando alle ciance, vediamo quali sono queste benedette sostanze che fanno male. Il sale è un elemento utilizzato da millenni per conservare gli alimenti. Perché il sale conserva gli alimenti? Perché ha un forte potere osmotico, richiama acqua, all'interno dei batteri nelle loro cellule c'è una componente liquida e quindi il potere osmotico, soprattutto per quei batteri che non hanno una membrana rigida, va a uccidere i microbi. Il problema è che il sale può danneggiare anche il nostro microbiota e quindi può danneggiare, se ne mangiamo in eccesso, anche i batteri che stanno nel nostro intestino e sono buoni. Tra l'altro, un'assunzione eccessiva di sale può alterare in alcuni soggetti la pressione, portare a ipertensione, il sale correlato con alcuni tumori. Insomma, le linee guida dicono di non andare oltre 4-5 grammi di sale al giorno. Alimenti eccessivamente salati possono durare per tanto tempo ma fanno male alla nostra salute. Un altro elemento che utilizza il potere osmotico per uccidere i microbi è lo zucchero. Cibi eccessivamente zuccherati, se noi prendiamo lo zucchero in bustina dura per un sacco di tempo, vanno in questo caso anche qui ad alterare il nostro microbiota, portano a una disbiosi fermentativa. Inoltre lo zucchero è un alimento poco saziante che ha un potere calorico ed è associato a tutti i cibi industriali. Quindi viene aggiunto al naturale sotto forma di sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio. Tutti gli alimenti eccessivamente zuccherati fanno male al nostro organismo, sia dal punto di vista microbico del nostro microbiota, sia dal punto di vista metabolico, portando verso tutti quei problemi di disregolazione della glicemia. L'alcol è un altro elemento che in passato soprattutto veniva utilizzato per conservare. Se da una parte aumenta la shelf life di alcuni alimenti, dall'altra parte l'alcol è tossico. Ricordatevi che in letteratura scientifica ormai si vede chiaramente che non esiste una quota sicura di alcol. Poi io sono il primo a bere, ma bere con moderazione non fa comunque bene perché gli effetti negativi sono sicuramente maggiori rispetto a quelli positivi. Quindi il resveratrolo che c'è nel vino rosso fa sicuramente bene, anche se poi il quantitativo in un bicchiere di vino rosso è minimo, ma gli effetti negativi dell'alcol sono molto più marcati. Bere purtroppo fa male. Tutti poi stiamo molto attenti ai conservanti, fra tutti i nitriti che derivano dai nitrati. I nitrati non fanno ancora male, i nitriti sicuramente sì. Il fatto che le carni lavorate dovrebbero essere non limitate ma completamente eliminate dalla nostra alimentazione è proprio dato dal quantitativo molto alto di nitriti che sono un elemento cancerogeno non per un tumore come avviene normalmente nelle sostanze perché noi quelli che chiamiamo tumori sono differenti malattie tutte accumulate dal moltiplicarsi indifferenziato di alcuni tipi di cellule, ma in realtà sono tante malattie differenti. Bene, i nitriti aumentano la probabilità di ammalarsi di tumore in tutti i tessuti. Eliminare così questo tipo di conservanti, se vogliamo avere una sana e buona alimentazione, è un passo necessario. Un altro modo poi per conservare gli alimenti è quello di cambiare la composizione degli acidi grassi in modo che vadano più difficilmente incontro a perossidazione lipidica e quindi si ossidano ed è qui abbiamo la nascita dei grassi trans. Grassi trans esistono in modo molto raro in natura mentre l'industria alimentare li ha sfruttati soprattutto in passato oggi sempre meno per fortuna in modo molto importante. Infine l'ultima sostanza che serve per conservare gli alimenti e va limitata o proprio non mangiata riguarda l'affumicamento di alcuni alimenti e la cottura eccessiva di altri. Quando cuociamo stiamo uccidendo i batteri, che ben venga, ma le alte temperature, soprattutto sugli alimenti di origine animale, soprattutto sulle carni rosse, creano delle sostanze cancerogene. Quindi affumicamento, cottura troppo prolungata o troppo elevata sui prodotti soprattutto di origine animale sarebbero da limitare. Ecco questa era una parentesi su alcune sostanze meno famose che ci possono fare male. Ce ne sono tantissime altre di cui non abbiamo parlato oggi nel video perché magari se ne parla molto più spesso, ma ricordiamoci che purtroppo quello che l'uomo giustamente ha inventato per poter protrarre la durata degli alimenti, purtroppo oggi quando si esagera con questi cibi ci può portare ad aumentare la percentuale di ammalarci di alcune malattie. E vuoi lasciare nei commenti altre sostanze, altri consigli che non ho messo, ti ringrazio in modo da rendere più completo questo video e io non posso che augurarti buona giornata e aspettarti con il prossimo. A presto! A presto! A presto!